A seguito della sostituzione durante Juve Milan, le condizioni di Cristiano Ronaldo avevano destato molte preoccupazioni, soprattutto dopo che il tecnico bianconero Maurizio Sarri aveva rivelato che il fenomeno portoghese soffriva di un problema persistente al ginocchio, risultato di una botta rimediata in allenamento. Ma CR7 sembra essere tornato in forma e pronto a far sognare ancora i suoi fan. L'attaccante, infatti, è tornato in Portogallo ed ha partecipato alla prima sessione di allenamento della nazionale in vista delle due partite di qualificazione per Euro 2020 contro Lituania e Lussemburgo. Secondo i media portoghesi, Ronaldo non solo era in ottima forma ed ha lavorato senza limitazioni, ma era anche di buon umore. Non è un bel periodo per Alessandro Florenzi. Il capitano della Roma non ha più giocato dallo scorso 20 ottobre e con sette panchine consecutive rischia di perdere la convocazione al prossimo europeo. Il centrocampista sarebbe così insoddisfatto dalla sua attuale situazione da meritare di partire dalla capitale già nella finestra di mercato invernale. Ad accoglierlo ci sarebbe la Sampdoria, che attualmente starebbe meditando su un modo per prendere in prestito il giocatore classe 91. A confermarlo è lo stesso presidente della Samp, Massimo Ferrero, che in un'intervista al sito del Corriere dello Sport ha dichiarato «Mi piacerebbe vedere Alessandro in blu cerchiato e prenderlo, magari». L'attaccante del Brescia, Mario Balotelli, non potrà guidare in Svizzera per tre mesi. Il divieto, che scatterà il 31 dicembre 2019 e durerà fino al 30 marzo 2020, è stato imposto a Super Mario dopo che, nei giorni scorsi, il giocatore aveva commesso un'infrazione alle norme della circolazione stradale in Canton Ticino. Oltre a non poter guidare, Balotelli dovrà pagare la somma di 100 franchi, corrispondenti a circa 90 euro. La sanzione risale al 30 ottobre ed è stata pubblicata sul foglio ufficiale del cantone. Sono 13 i giocatori che, a seguito dell'ultima giornata di campionato della Serie A, sono stati costretti allo stop per un turno dal giudice sportivo. Di questi, due sono stati espulsi, Ruslan Malinowski, centrocampista dell'Atalanta, e il difensore del Brescia, Alec Mateiu, a munizione con ammenda di 2.000 euro per Riccardo Sottil della Fiorentina, colpevole di aver simulato di essere sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria. Punizione severa anche per il preparatore atletico del Torino, Giuseppe Pondrelli, a cui toccano due giornate di squalifica per avere contestato platalmente una decisione arbitrale, nonché per aver insultato il quarto ufficiale al lato del provvedimento di espulsione.